Anche quest'anno rinnoviamo l'appuntamento più importante dell'estate colledarese. Un mio ringraziamento ma ovviamente ai maestri porchettari per quello che fanno per il nostro comune e soprattutto vorrei sottolineare che quest'anno ci sarà anche una mostra per raccontare la storia della porchetta colledare. La sagra sarà dal 10 al 13, sarà allietata da musica, canti, danze, naturalmente dalla buonissima porchetta, fiumi di birra e all'interno di questa sagra ci sarà una mostra, una mostra di fotografie del 1960 a adesso, tutti e nove i maestri porchettari.